Musica Bentrovati con il TGDs di Telebari. Il GUP di Bari Giuseppe Montemurro ha condannato a 14 anni di reclusione il 33enne Francesco Assunto per l'omicidio volontario con dolo eventuale del 27enne Giovanni Palazzotto, picchiato e poi soffocato fino a morire all'alba del 20 novembre 2022 all'esterno del bar gestito dallo stesso assunto il Coffee Time di Bitritto. Il GUP nella sentenza ha condannato Assunto anche al pagamento di una provvisionale da 100.000 euro per i familiari di Palazzotto. I carabinieri del Comando Provinciale di Bari hanno eseguito un decreto di sequestro di prevenzione finalizzato alla confisca a carico di Silvano Scannicchio 72 classe 72 pluri pregiudicato tra l'altro per reati di estorsione aggravata dal metodo mafioso. Associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di rifiuti. Il proposto è stato uno dei leader portavoce del gruppo della tifoseria organizzata del Bari ed in particolare del gruppo sportivo denominato Seguaci della Nord. E adesso le altre notizie del TGDs. Comune di Bari e Regione Puglia si sono costituiti parte civile in un processo dinanzi al Tribunale di Bari relativo alle estorsioni ad alcuni proprietari di imbarcazioni a Santo Spirito, quartiere sulla litoreanea nord della città. Le vittime sarebbero state costrette a pagare il pizzo da 10 a 100 euro al mese al pluri pregiudicato Domenico Siddella che si sarebbe avvalso secondo la direzione distrettuale antimafia che ha coordinato le indagini dei carabinieri dell'aiuto della moglie Caterina Santoro che avrebbe tenuto la contabilità delle estorsioni di Raffaele Altieri di 60 anni e Antonio Navoni di 46. I quattro furono arrestati ad aprile scorso. La Corte Costituzionale ha fissato al 12 novembre l'udienza in cui saranno discussi i ricorsi delle regioni sulla autonomia differenziata, partendo proprio da quello della Puglia, il primo ad essere depositato per chiedere l'annullamento della legge Calderoli ed è quali rischia di dipendere una partita politica nazionale tra i vari partiti della maggioranza. Emergenza medici in Puglia alla fine del 2024 andranno in pensione 1.414 medici di medicina generale e non ci sono sostituti a sufficienza. Tra il 2019 e il 2021 il numero dei medici di base si è ridotto del 3,7% e dentro il 2025 la regione ne perderà altri 383, dato confermato anche dall'ultimo report di Gimbe. Ogni medico di base può assistere massimo 1.500 pazienti. Il tetto in Puglia viene superato dal 21,3% del totale dei medici. Dal 2025 al 2029 il territorio perderà anche altri 1.140 medici specialisti. Anche quest'anno la Puglia ospita il mese del benessere psicologico dall'8 al 31 ottobre in programma in tutta la regione incontri, iniziative ed eventi pubblici proposti e organizzati dai professionisti finalizzati ad avvicinare la popolazione al tema della salute psicologica. La recente indagine AXA afferma che una persona su tre ha problemi di salute psicologica e la percentuale sale al 39% tra i giovani nella fascia di età compresa tra i 18 e i 24 anni. E adesso le notizie dall'area metropolitana e dalla regione. Un protocollo che ufficializza l'esistenza di una squadra che da tempo lavora al contrasto della criminalità mafiosa. Un'intesa che intende intercettare le situazioni di debolezza economica e provvedere a tutelarle dalle infiltrazioni della illegalità. Sono gli obiettivi del protocollo siglato a Barletta da Prefettura, dalle procure ordinarie di Trani e Foggia e dalla DDA di Bari. Firme che intendono rimarcare che la squadra Stato risponde alla criminalità organizzata con l'antimafia organizzata. Incidente stradale vero o simulato è l'inquietante interrogativo a cui vuole dare risposta la procura di Foggia che ha inviato un avviso di garanzia con l'accusa di omicidio volontario nei confronti di Ciro Caliendo. L'imprenditore agricolo, marito di Lucia Salcone, morta la notte fra il 27 e il 28 settembre sulla provinciale fra San Severo e Castelnuovo della Daunia. Il sospetto degli inquirenti è che l'impatto fra l'automobile ed un albero e il successivo incendio della vettura siano stati una messa in scena per coprire un uxoricidio. Accusa tutta da provare e a questo servirà l'autopsia disposta sul corpo di Lucia Salcone. Un avviso di conclusione delle indagini è stato notificato dalla procura di Foggia. Cinque persone coinvolte nella indagine sulla aggressione al personale medico avvenuto la sera del 4 settembre scorso nel reparto di chirurgia toracica del Policlinico Riuniti di Foggia dopo la morte della 22enne Natascia Pugliese. La ragazza era deceduta durante un intervento chirurgico. Le persone destinatarie dell'avviso di conclusione delle indagini sono tutte familiari della ragazza. Il padre, la sorella, due fratelli e uno zio. Per loro le accuse sono di lesioni e minacce. La procura, oltre che sugli aggressioni al personale medico, sta indagando anche sulla morte della ragazza. I vigili del fuoco di Ustuni sono intervenuti a Fasano, in via Cenci, per un incidente stradale. Un'auto è andata a sbattere contro il muro di un condominio, molto probabilmente dopo un malore del conducente. Tutto è stato messo in sicurezza, veicolo e l'intera area coinvolta. E con il TgList è tutto, grazie per averci seguito. Buon proseguimento. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.